ciao a tutti oggi facciamo il grilled cheese non con il cheddar ma con la fontina prendete un bel pezzo di fontina che sia buona mi raccomando e la grattugiate con una grattugia dai fori larghi fino a ottenere tutti questi bei fili soffici il pezzo che vi avanza ovviamente ve lo mangiate a parte poi imburrate un lato di quattro fette di pane in cassetta ne mettete due dal lato del burro in padella a fiamma bassa e ci mettete sopra una badilata di fontina e poi le altre due fette di pane questa volta con la parte imburrata verso l'alto coprite con un coperchio e fate tostare prima da un lato e poi dall'altro e quando le fette saranno ben dorate le mettete su un tagliere le tagliate a metà e guardate come fila ragazzi e buon appetito